Allora, sono molto felice, ho scelto Monza anche perché credo che negli ultimi anni sia diventata una realtà importante a livello pallavolistico, una delle migliori società in Italia. L'anno scorso, essendo stata Conegliano, ho avuto l'onore, quasi, l'anno è stata una fatica, di giocare le finali con Monza e devo dire non c'era squadra migliore che potesse metterci i bastoni fra le ruote. È stato difficile ma allo stesso tempo bello perché quando siamo venuti a Monza, nell'arena, è stato da brividi il pubblico, l'affetto che ho visto nei confronti delle ragazze e un po' la mentalità e il modo in cui anche la squadra ci ha affrontate. È stato qualcosa di particolare, mi ha colpito molto e sono molto felice e contenta di poter entrare a far parte di quell'atmosfera che ho visto e continuare il lavoro che hanno iniziato l'anno scorso. Sì, qualche esperienza l'ho avuta ma io credo che non sia mai abbastanza, nella vita non si smette mai di imparare. Quindi io credo di poter imparare molto anche a Monza. Metto a disposizione la mia disponibilità, scusa, ripeto, però questo è, la mia disponibilità, la mia energia, la mia voglia di fare e veramente di imparare e aiutare. Non so, sono tante cose che però non sono scontate comunque sia. Io credo che ci saranno anche tanti altri giocatori come me che si metteranno a disposizione e questo potrà creare una bella base da cui partire. Spero di riuscire a entusiasmare tanto anche i tifosi. È un qualcosa che mi ha sempre accompagnato nella mia carriera, non ho cambiato tante squadre e questo vuol dire che mi leggo tanto al luogo, alle persone. Io spero di poter entrare nel cuore dei monzesi e di creare un qualcosa di speciale, insomma. Beh, allora, innanzitutto ringrazio la società che mi ha dato la possibilità, mi darà la possibilità di mettermi in gioco con la divisa di Monza. Saluto tutto il pubblico, tutto il consorzio. Spero e mi auguro che avremo davanti nuove e bellissime esperienze da fare e che ne so, in bocca al lupo faccio a tutti. e dico ai tifosi, vi aspetto numerosi. Quello che mi avete fatto vedere in finale io lo voglio rivedere già da gara 1, cioè dalla prima partita, quindi che non sia stata una cosa tanto per. Spero di rivedervi numerosi e di, non so, non lo so. Ci vediamo presto, a tutti, ciao. Miriam Silla Grazie Grazie